Io adesso dovrei presentare Aldo Cazzullo, cosa assolutamente inutile. Prima di tutto perché lui ha lavorato alla stampa per una ventina d'acqua, 15 anni, e quindi i torinesi lo conoscono bene. Poi perché credo sia un abitué di questo posto, in senso parecchi libri li hai presentati qui, e poi perché così numerose siete venuti in una sera di pioggia, vuol dire che conoscete il valore del libro e del personaggio che qui presentiamo. Allora io devo dire per onestà una cosa subito, un'avvertenza. Io sono un amico e un estimatore di Aldo. Quindi parlare male di Aldo per me è proprio difficile, non riesco. Sarò sincero, però per onestà ve lo dico. Quindi può darsi che qualcuno possa dubitare delle cose che dico. Io ho conosciuto Aldo che era un ragazzo. Quando sei arrivato? Io sono arrivato nell'88 alla stampa, avevo ancora i capelli, avevo 22 anni, e la prima persona che ho conosciuto, non è un gioco di una corrispondenza d'amorosi sensi, è la verità, la prima persona della direzione della stampa che ho conosciuto è stato Luigi Laspina, che mi ha fatto andare nel suo, era un sabato sera, perché mi insediai nel mio, non avevo l'ufficio, insomma, nella mia sediolina, nel mio computerino, un sabato, e Luigi era di turno al giornale, mi faceva andare nel suo ufficio e io gli vedi del lei. Lui aveva già una grande storia alle spalle, era vice direttore all'epoca, poi è stato condirettore, prima era stato capo dell'arte del Feneromano al Corriere della Sera, alla stampa, aveva seguito il caso Moro. Anzi, credo che tu sia arrivato a Roma il giorno in cui rapirono Moro, è così? Il giorno prima, mi avevano avvisato. Insomma, io sapevo che era Luigi Laspina, lui non sapeva che ero io, perché ero stato assunto da Gaetano Scardocchia, che allora era il direttore. E la cosa che più mi colpì, quando io gli vedi del lei, lui mi disse, diamoci del tu, no, dammi del tu, diamoci del tu, una cosa mi piacque molto. E quindi è iniziato un rapporto distante, perché poi non siamo persone, io non faccio parte della sua vita, non fa parte della mia, però io ho sempre guardato lui con molto rispetto, con molta ammirazione. Quindi dovendo scegliere una persona con cui dialogare, di questo libro in cui ci sono trent'anni di vita, ma non soltanto di vita mia, di vita italiana, mi è parso giusto farlo con lui. Sì, in effetti è vero. Io me lo ricordo quando arrivò questo ragazzo, e si vea subito che aveva un talento, e aveva tante virtù, pochi capelli, però avevi tante virtù. Qualche capello ce l'aveva ancora. Soprattutto una, la curiosità, che è la cosa fondamentale del nostro mestiere, cioè essere curiosi di tutto. Poi lui è un personaggio un po' particolare, onnivaro, cioè lui piace tutto, i piacere della vita dal bere bene. Tutte le volte che sono andato a mangiare con lui mi hanno portato in posti fantastici, perché ama la vita. E per un giornalista, ecco, la prima, se uno mi dovesse dire, Aldo, perché si diventa giornalista? Secondo me perché si è curiosi, curiosi della vita. Ecco, Aldo è il tipico giornalista, cioè proprio l'uomo curioso di tutto, e che ama tutto, cioè ama il vino, la musica, mangiare bene, le donne, adesso qui sulle donne non dico niente. Sono via mamma, quindi... Perché non vorrei turbare, così, dei equilibri familiari. Però ha scritto un libro recentemente che dice che le donne ci salveranno, arrederanno la terra, eccetera. Quindi, se non altro, da quel punto di vista, secondo me gli piacciono anche le donne. Comunque. E questo, secondo me, è uno dei motivi. L'altro motivo cos'è? La forza fisica. Aldo è uno che lavora come un matto. Io vi racconto solo un episodio di questo. Poi parliamo del libro, perché adesso non vorrei che... Una volta io ero capo dell'ufficio romano, arrivò lui, ma non era alla redazione romana, era lì casualmente per un'altra cosa. E allora la mattina facciamo questa riunione, la mattina c'è una riunione, e dissi Aldo dovresti farmi un ritratto di questo personaggio politico. Adesso non mi ricordo chi, un personaggio ripolitico allora. E lui, metti di là, eccetera, eccetera. Poi arrivano le otto di sera e a un certo punto la giornata è girata, come si suol dire. Quel personaggio lì non voleva più, ce n'era un altro. E io non sapevo come andare da lui e dirgli, guarda, senti, Aldo scusami, ma bisogna cambiare e proporgli un'altra cosa. Erano le otto di sera. Allora, pensando cosa dovessi dire, mi avanzo nel corridoio e vedo lui che si avanza, proprio ci scontriamo quasi nel corridoio, con questo quaderno di appunti davanti, con la faccia di dente, che mi dice, Luigi, magnifico, ho trovato una bellissima cosa. E io ho detto, adesso cosa gli dico? Allora, guarda Aldo, scusami, ma sai, bisogna cambiare, dovresti fare un'altra cosa. Un altro mi avrebbe detto, ma no, non è possibile, sono le otto di sera, ma tu sei matto, ma io ho tutta la giornata che lavoro su questo. Lui alzò leggermente la testa, mi guardò con gli occhi un po' cirigli attraverso queste lenti, disse, va bene, chiuso il coso, andò di lontano, dopo un'ora e mezza mi ha portato un pezzo bellissimo di un altro che non c'entrava niente. Ecco, questo è Aldo. Adesso basta, parliamo del libro. Dunque, il libro è un libro di interviste. Le interviste, nell'opinione comune, sono la cosa più facile che un giornalista possa fare, perché, voi che non fatti giornalisti, cosa pensate? Che uno va lì dal personaggio, apre il registratore oppure scrive, quello gli parla, chiude, poi va al giornale, trascrive. Invece, come giustamente dice Aldo, le interviste sono la cosa più faticosa e più difficile che si possa fare. Aldo, tu come ti prepari a fare le interviste? Io tanto cerco di leggere tutto quello che il personaggio ha detto e fatto in passato e a volte ci sono delle cose molto importanti che sono passate inosservate o che comunque la gente non ricorda, quindi l'obiettivo è fargliele dire, fargliele ridire, magari in modo diverso. Oppure ci sono delle storie che intuisco, ma che in realtà non si conoscono, quindi bisogna cercare di arrivare lì. Faccio un esempio. Quando ho intervistato, dunque io ho cercato molte volte di intervistare Paolo Sorrentino, il regista, il quale ha sempre detto di no. Poi un giorno mi ha detto vabbè, adesso è uscito The Young Pope, il Papa Giovane, la serie televisiva che ha fatto per Sky e poi ha venduto anche in America, facciamo un'intervista su quello. E allora io non avevo solo l'intenzione di fare un'intervista quasi promozionale su un suo lavoro per quanto pregevole. Però poi ho pensato quando mi ricapita di fare un'intervista a Sorrentino mi ha detto sempre di no e allora proviamo. Però in realtà il mio obiettivo era farmi raccontare una storia che sapevo che era successa, però non sapevo esattamente come era andata perché avevo letto in un articolo di un collega di Repubblica Curzio Maltese e scritto il giorno in cui lui vinse l'Oscar per la vita bella e Curzio scrisse una cosa che non si era mai saputa che i genitori di Paolo Sorrentino erano morti nello scoppio per causa del gas nel crollo della loro abitazione a Napoli quando lui era poco più di un bambino. Però era un inciso quasi nel pezzo la cosa mi colpì molto perché questa cosa non sapeva nessuno. Allora io sono andato a casa di Sorrentino con l'idea di arrivare lì però ovviamente non potevo sedermi davanti a lui e dirmi vabbè allora raccontami come sono morti i tuoi genitori se uno facesse io e i miei genitori sono qua davanti tutti e due questa cosa non è successa però e se ho subito un luto qualcuno si mette davanti e mi chiede come è andata mi alza e me ne vado o lo metto alla porta e quindi mi sono cucato un'ora e mezza di Young Pope e lui il rapporto con Jude Law eccetera eccetera e poi a un certo punto siamo arrivati a parlare ai suoi genitori e devo dire che lui si è aperto e ha raccontato questa storia che non aveva mai raccontato e la cosa non erano andate come aveva scritto Repubblica lui allora era figlio di un grande tifoso del Napoli e tutte le domeniche andavano a San Paolo a vedere il Napoli però la domenica in cui la domenica dopo il Napoli giocava fuori casa e allora papà la mamma e Paolo che è il più piccolo lui ha due fratelli più grandi un fratello e una sorella lui è il più piccolo il piccolo Paolo con papà e mamma andavano a Roccaraso questa località di montagna a un'ora e mezza di macchina da Napoli a passare un weekend in montagna si riposava in una casetta di legno solo che Paolo non aveva nessuna voglia di andare a fare questo weekend a Roccaraso con papà e mamma e allora ogni volta chiedeva ma non posso andare a vedere il Napoli in trasferta no al San Paolo andiamo quando il Napoli è in trasferta tu vieni con noi in montagna poi a forza di insistere finalmente Paolo Sorrentino aveva 13 anni e aveva il permesso di andare con i suoi amici a vedere il Napoli in trasferta era il Napoli di Maradona il Napoli che vinceva di Scudetti e quindi quella domenica Napoli giocava a Empoli e i genitori andarono a Roccaraso da soli e lui rimase a Napoli e la domenica mattina aspettava i suoi amici che andassero prendere per partire per Empoli invece arrivò il portiere dello stabile a dire guarda è successo un incidente a papà e mamma in questi casi non ti dicono tutto subito era successo che quella notte la stufa a gas con cui i genitori di Paolo Sorrentino riscaldavano la loro casetta di Roccaraso si era rotta e loro erano passati dal sonno alla morte respirando questi gas della stufa e quindi mi raccontava Paolo Sorrentino con amare ironia Maradona mi ha salvato la vita perché io se non avessi organizzato la trasferta a Empoli sarei morto anch'io soffocato nel sonno senza scorgermi di nulla e oggi non avremmo quello che è considerato il più grande regista italiano una volta che Paolo Sorrentino mi ha raccontato questa cosa poi gli ho chiesto chi erano i tuoi genitori il papà si chiamava Zazà Salvatore ed era uno molto poco napoletano un po' freddo con delle battute dei lampi improvvisi diceva Sorrentino mi ricordava molto Tony Servillo che è uno molto rigoroso però con delle accensioni improvvisi mentre mia mamma mi raccontava era mi sentina si chiamava era solare allegra divertente accogliente avvolgente e lui ha cominciato a parlare dei suoi genitori e si è messo a parlare dei suoi genitori cosa che probabilmente non aveva mai fatto dopodiché io esco di lì con il magone perché cosa faccio qui ho una storia che è bellissima però poi lui si aspetta che io faccia un'intervista su Young Pop detto questo a questo punto ho attaccato il pezzo con la storia dei genitori e poi ho messo qualcosa su Young Pop e poi ho passato due giorni in ambascia perché poi sono una persona sensibile non mi sento uno squalo mi rendo conto che la prima cosa sono i lettori e del giornale e devo fare bene il mio mestiere però poi davanti ho delle persone non è che ho dei i video sono rimasto un po' in ambascia perché non sapevo come Sorrentino avrebbe reagito tra l'altro io cerco sempre di evitare di far rileggere le interviste a volte se devi intervistare un ministro o un capo di governo è inevitabile fargliela rileggere perché magari poi il giorno dopo crolla la borsa o crolla il governo e deve sapere quello che tu scrivi nel caso degli artisti è più diverso comunque io aspettavo a rispondere dopo ho avuto tante mail tante sms sono occupati però Sorrentino latitava e dopo due giorni mi è arrivato un sms che racconto perché nel libro ogni intervista è introdotta da una breve qualche nota in corsivo in cui racconto il contesto in cui le interviste è maturate e mi è arrivato un sms in cui Sorrentino dice Aldo l'intervista mi è piaciuta molto ti ringraffio in ritardo perché quando parlo di cose personali cosa rara ci metto un po' a metabolizzare ti abbraccio Paolo e quindi quando mi è arrivato questo sms ho tirato un sospiro di solliero detto questo Sorrentino non sa che io ho scritto nel libro il contenuto del suo sms ma adesso sono in ambascia nel pensare che magari può farmi male beh in effetti il tremore del giorno dopo è un classico quando uno fa un'intervista non perché deve tradire quello che dice ma certamente deve sintetizzarlo e poi c'è il problema del titolo quando si fa un'intervista in genere si va già con un'idea Aldo aveva un po' raccontato io da quello lì devo fargli dire quello e allora in genere ovviamente non si fa la prima domanda si fa verso la fine quando tutte le difese diciamo dell'interlocutore ti smorzano perché dicono ma guarda che bravo ragazzo questo intervistatore com'è gentile mi ha raccontato delle belle cose allora cala diciamo l'attenzione e allora gli zack gli fai la domanda a tradimento e sai già che quello sarà il titolo e sai già che quel titolo lì è un pochettino non dico forzato ma insomma è una sintesi allora c'è l'alibi del titolista allora il giorno dopo ti chiama il personaggio e dice eh ma qua abbiamo parlato due ore le ho raccontato un sacco di cose importanti e poi lei su quella sciocchezza mi ha fatto il titolo poi dice no guardi il titolo non li fanno i titolisti e lì ci sono due versioni c'è proprio la carogna che dice io quando ho visto quel titolo mi è dispiaciuto guardi moltissimo c'è quello un pochettino più leale che dice sa il titolista deve sintetizzare eccetera e quindi invece diciamo la verità molto meglio che chi fa l'intervista non faccia anche il titolo è vero? E uno così terribile era Fassino ad esempio che non c'è nel libro ma forse meriterà di esserci perché comunque è stata una persona importante ma lui ad esempio era tremendo si lamentava sempre tu potevi scrivere qualsiasi cosa e lui si lamentava sempre e una volta si lamentò per il titolo e gli disse ma guarda che il titolo mica l'ho fatto io e proprio me ne vieni a raccontare queste cose che credi di prendere in giro ma ecco ad esempio quando giustamente lui si diceva si cerca prima di mettere a suo agio un intervistato ecco a me è successo di recente con Vasco Rossi io non avevo mai intervistato Vasco Rossi tutte le volte avevo appuntamento poi lui mi dava buca Vasco Rossi è famoso per essere sfuggente di solito gli artisti parlano solo quando hanno un disco l'uscita un concerto importante tendono sempre a legare le cose alla promozione i comici sono difficilissimi da intervistare perché non rendono cioè Benigni un conto è sentirlo parlare forse dovrei dire vederlo parlare perché Benigni fa di tutto il corpo lingua parla con tutto il corpo con la mimica con le braccia se tu leggi quello che dice Benigni dice vabbè tutto qui infatti Benigni non ha quasi mai interviste una volta l'ho intervistato ma fu proprio un'intervista rubata quando entrò a cavallo al festivo di Sanremo col tricolore dell'anniversario del 150 anni dell'Unità d'Italia fu una cosa importante perché quella cosa cambiò un po' la percezione dei 150 anni fuori da Torino si pensava che non fosse una cosa importante invece si capì che lo era però un'intervista rubata nel libro non c'è invece finalmente due mesi fa ebbe appuntamento con Vasco Rossi che voleva parlare del suo concerto a Modena che farà il primo luglio aveva già venduto 200.000 biglietti si era il più grande concerto della storia della musica italiana ha battuto il record di Ligabue e Ligabue e Vasco Rossi si odiano sono nati a pochi chilometri di distanza l'uno dall'altro di Ligabue a Correggio quindi in provincia di Reggio Emilia Vasco a Zocca in provincia di Modena e come spesso accade in Italia sono come coppie Bartali anche se Pippo Baudo racconta che la sua rivalità con Mike Bongiorno era inventata o meglio programmata cioè Mike Bongiorno quando ha capito che il più bravo tra i giovani era Pippo Baudo l'ha chiamato e gli ha detto io e te dobbiamo litigare ma perché tu sei il mio maestro il mio autore no 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 tu comincia a parlare male di me io parlerò male di te tutti penseranno che ci detestiamo agli italiani queste cose piacciono Guelfi e Ghebellini Coppie e Bartali Juve e Toro e quindi vedrai che funzionerà gioverà a tutte e due e così è stato allora vado da Vasco Rossi perché invece veramente si odiano davvero lui e Ligabue però anche lì io volevo farmi raccontare la sua storia anche le cose più scabrose ma lui voleva parlarmi di Modena Modena Park 200.000 biglietti allora in questi casi è interessante cominciare dalla famiglia raccontami chi sede dove vieni il paese in cui sei nato chi erano i tuoi nonni e quei nonni funzionano sempre allora io sono molto orgoglioso dei miei nonni ve lo sapete parlo sempre dei nonni c'è un nonno che ha fatto la grande guerra che è dedicato alla guerra dei nostri nonni il nonno macellaio insomma tutti abbiamo parlato dei nostri nonni e allora Vasco Rossi è iniziato a parlare di suo nonno suo nonno anche lui come nonno Lorenzo papà di mio papà ha fatto la grande guerra e stava per essere fucilato perché il suo reparto si era rifiutato di andare allassato sotto il fuoco nemico e quindi stavano andando a farsi fucilare vent'anni per questo quando i ragazzi dicono ci stanno rubando il futuro cent'anni fa i nostri nonni non i trisavoli del settecento i nostri nonni i papà di mio papà andavano a farsi ammazzare sul lisonzo e il nonno di Vasco Rossi stava andando a farsi fucilare ma nel drappello che doveva fucilarlo c'era uno del suo paese di Zoc non si sono neanche parlati questo qua gli ha strezzato l'occhio lui si è buttato giù da un dirupo ed è riuscito a scappare e poi si è nascosto in un convento ed è riuscito a farla franca e allora Vasco Rossi raccontava no no non è che sia stato proprio un eroe di guerra e lui diceva era una guerra per ammazzare i poveretti poi il padre di Vasco Rossi invece ha fatto la seconda guerra mondiale mi stanno rubando il futuro il papà di Vasco Rossi è stato fatto prigioniero insieme con 800.000 soldati italiani dopo l'8 settembre chiuso in un lager spogliato della divisa picchiato affamato e poi disse era lui come gli altri 800.000 adesso vi diamo da mangiare vi diamo una divisa potete tornare in Italia però dovete firmare e impegnarvi a combattere per noi per i tedeschi il 650.000 la grandissima maggioranza dice no anche quella fu resistenza il papà di Vasco Rossi Vasco Rossi si chiama così perché il suo papà aveva un grande amico si chiamava Vasco e quando gli alleati bombardarono il campo di prigionie di Düsseldorf dove c'erano molti prigionieri italiani e fu un massacro però lui era finito nel cratere di una bomba e non riuscì a più uscire allora questo Vasco lo prende lo tira su di peso e gli salva la vita allora dicevamo Vasco Rossi si chiama così perché Vasco era il compagno di suo padre che ha salvato la vita insomma lui comincia a parlare di questa storia e poi comincia ad arrivare agli argomenti più difficili che gli interessavano Vasco Rossi è stato arrestato due volte per droga la prima volta si è fatto 55 giorni in isolamento e mi ha detto stavo per diventare pazzo l'unico che si fece vivo fu Pannella che mi mandò un telegramma e Fabrizio D'Andrea mi venne a trovare gli altri amici sparirono poi lo riarrestarono però aveva un solo grammo di cocaina ma era strafatto era in macchina e dice stava andando a 200 l'ora davanti c'era una macchina che non gli dava strada lui cominciava a clacsonare a fare i fare era una macchina della polizia e l'ora è stata 100 giusto e poi mi ha raccontato una storia l'avevo più o meno anche lì un po' subodorata in giro ma non l'aveva mai raccontata così bene mi ha raccontato che nell'83 quando era lui al massimo del successo bollicine no? tutte le sere dopo il concerto c'era qualche ragazza che gli soffriva e lui sceglieva più bella se la portava via e sai qualche ragazza gli diceva ma nessuno mi diceva mai stai attento e quindi lui non stava attento poi un giorno nove mesi dopo si vede arrivare una ragazza con un passeggino con un bambino sotto casa zocca che gli dice questo è tuo figlio vasco tuo figlio e dice questa sarà una matta l'ho mandata via al giorno dopo è tornata fino a ho fatto il test del DNA ed era veramente mio figlio poi il giorno dopo è arrivata un'altra ragazza con un altro passeggino un altro bambino dire vasco ecco tuo figlio ma questa è una matta dopo di che dico vabbè faccio il test del DNA anche con te e lei ha detto no ti devi fidare non mi fido vai via però questo bambino dopo 14 anni è arrivato all'età quasi adulta ha voluto fare lui il test del DNA e vasco ha detto facciamo il test del DNA ed era lui è suo anche lui e ha riconosciuto anche lui quindi insomma praticamente vasco ha due figli che hanno dati negli stessi giorni da due donne diverse che lo hanno già reso nonno e poi ha un terzo figlio che invece ha fatto come dire in piena consapevolezza che è quello che lui considera il suo vero figlio insomma ha raccontato tutta una serie di cose che neanche lui sapeva di poter raccontare compreso anche la malattia vasco ha rischiato di morire qualche anno fa per un virus killer è stato due anni in ospedale ecco alla fine di tutto questo mi arriva una mail di un lettore che mi dice caro Aldo molto bella l'intervista a vasco però non gli ha fatto neanche una domanda è lasciato che lui potesse raccontare quello che voleva ma perché ha fatto questo e dico mamma mia cioè se arriva un idraulico a casa mia e mi aggiusta il rubinetto io non so come lui ha fatto e non lo voglio sapere non ci capisco niente lo ammiro per quello che ha fatto se arriva un elettricista e mi aggiusta il circuito elettrico io non sarei mai capace di aggiustare il circuito elettrico e quindi ammiro l'elettricista che lo sa fare invece questo è il nostro mestiere ingrato Luigi perché poi vedi qui siamo tre amici lo possiamo dire ma siamo pochi ma buoni ma ormai si è fatta l'idea che il giornalista sia un complice il giornalista sia quello che regge il sacco che il giornale sia un ingranaggio dell'establishment che siano al servizio dei partiti dei potenti dei banchieri della finanza che siano casta che siano nella parte alta della società dove c'è la rappresentazione dove c'è la politica la falsità la menzogna mentre invece la rete è il posto in cui si dicono le cose come stanno è uno schema falso però è uno schema affascinante consolatorio in cui molti credono e i più miserabili tra di noi additano i colleghi come ruffiani servi così e loro i loro accogluti come quelli che le cantano chiare e purtroppo questa cosa a volte funziona mentre invece non pensate che sia così perché entrare nel giornale è difficilissimo e i giovani giornalisti sono pagati pochissimo meno ancora di quanto noi eravamo pagati la loro età noi siamo dei privilegiati e noi abbiamo avuto ancora fortuna perché grazie ai lettori abbiamo fatto giornalisti in anni in cui la staicola io quando sono entrato alla stampa la stampa vendeva 415.000 copie tutti i giorni che il signor mandava sulla terra oggi per fare 415.000 copie non bastano Corriere della Sera e Repubblica Insieme poi certo c'è il web le interviste a Camilleri e a Bottura hanno avuto ognuna 40.000 condivisioni sul web che vuol dire che 40.000 persone l'hanno presa dal sito del Corriere e l'hanno mandata ai loro amici i quali a loro volta l'hanno mandata ai loro amici i quali a loro volta l'hanno mandata ai loro amici hanno avuto milioni di letture però nessuno di questi ha cacciato l'euro e mezzo per comprare il giornale e leggerlo sul giornale tra l'altro faccio questo esempio poi concludo perché è un esempio che sono affezionato perché lì ti fa capire come funziona la rete e come funziona l'opinione pubblica io feci questa intervista con Massimo Bottura che è considerato dai colleghi quindi da quelli che se ne intendono il più grande chef al mondo Massimo Bottura è di Modena Modena secondo me è un po' come Torino un po' come le Langhe è una terra magica cioè è un posto in cui per qualche misterioso motivo lì succedono delle cose infatti ad esempio non so Guarini era di Modena che poi è venuto a Torino a fare alcuni tra i palazzi barocchi più belli della nostra città e Enzo Ferrari era di Modena Pavarotti era di Modena Vasco Rossi è di Modena Massimo Bottura è uno che apre una trattoria a Modena e adesso è considerato il migliore chef del mondo e questa è un'altra cosa su cui insisto molto cioè noi siamo quasi arrivati a pensare che essere italiani sia una sfortuna mentre invece se voi prendete un mappamondo puntate un dito a caso potete scegliere la Camciacca questi paesi che esistono solo nel risico o la terra del fuoco non esiste un paese bello come il nostro in cui si può presentare un libro in un posto come questo dove la terra delle cose buone e delle cose belle la patria di 70 persone come quelle che ci sono nel libro e invece siamo arrivati a pensare che essere italiani sia una sfortuna è una cosa che non mi rassegnerò mai ti posso interrompere dunque ti dirò una cosa oggi pomeriggio giocavo con me a tennis io gioco nonostante l'età male una signora che è qui davanti a te tua moglie? no no non è mia moglie è una signora che sta lì non ti dico uguale è una signora che sta lì una bella signora che sta lì bene questa signora mi ha detto ah stasera vengo perché voglio conoscere Cazzullo leggo eccetera eccetera però sono un po' preoccupato dico ma perché sei preoccupata? e sì perché tutte le volte che c'è un giornalista che viene lì io sono un'abbonata quindi vengo tutte le volte esco distrutta perché sono pessimisti la catastrofe è davanti e io ho detto guarda vieni stasera perché vedrai che Aldo non è un giornalista pessimista è catastrofista allora io ti faccio una domanda secondo me un giornalista non può essere pessimista è catastrofico è vero? però vedi è quello che molta gente vuole sentirsi dire cioè il talk show se tu vuoi prendere applausi devi dire che i politici sono tutti ladri l'imprenditore sono tutti corruttori i giornalisti sono tutti servi e finiremo tutti a fare i camerieri in Australia se dici quello bravo ti battono le mani se provi a distinguere diventi il servo del sistema ma come non capire che se sono tutti colpevoli allora nessuno è veramente colpevole bisogna sempre distinguere certo che ci sono i politici i ladri i giornalisti i serbi gli imprenditori i corruttori ma non sono tutti così oltretutto io non mi sento neanche particolarmente ottimista diciamo che io sono fiducioso l'ottimismo è un sentimento uno pensa che poi alla fine le cose si aggiustino noi in famiglia non siamo così però diciamo che girando l'Italia ho trovato molti motivi anche di fiducia nell'avvenire vada vi dico solo tu parlavi prima del cibo e del vino Lorenzo lo sa quando eravamo ragazzi no a Torino non c'era Torino non c'era una città turistica uno che dicesse vado a fare un weekend a Torino era considerato un matto oggi usciamo di qua è pieno di turisti allora non esiste al mondo nessun paese nessuno quanti paesi sono al mondo? 360 non ce n'è neanche uno in cui in ogni angolo si faccia il vino cioè in Francia al nord fa troppo freddo in Spagna al sud fa troppo caldo in Inghilterra non parliamo in America ci sono delle zone in cui non si viene allora in Italia dall'Alto Adige alla Sicilia dal Salento alla Valle d'Aosta non solo si fa il vino ma si fa un vino eccellente vi faccio un esempio se ne possono fare altri dieci l'automazione la tecnologia il design la moda i mobili però siamo convinti che essere italiani sia una sfortuna mentre essere italiani nel mondo globale essere cittadini della patria delle cose buone delle cose belle è una grande opportunità soltanto di falso parmigiano e falsa mozzarella c'è un giro d'affari di 60 miliardi di euro l'anno che perdiamo prodotti che suonano italiani ma non lo sono per tacere appunto della moda del design dei mobili siamo seduti su un tesoro e non lo apriamo la più grande catena di ristoranti al mondo è italiana in realtà è tedesca si chiama Vapiano non la conosciamo perché in Italia ovviamente non c'è ma nel mondo c'è sono tedeschi furbacchioni che se vendessero Würstel e Krauti andrebbero in malore ma vendono falsa carbonara falsa bagnacauda falso cacio e pepe e fanno i soldi e noi non riusciamo spesso a valorizzare quello che abbiamo citavo prima Angelo Gaia perché è un artigiano straordinario e nel libro c'è un'intervista in cui lui mi racconta proprio la sua filosofia fare saper fare saper far fare e far sapere che per noi piemontesi far sapere la cosa più difficile perché siamo un po' riservati di natura nel libro c'è un altro albese mio concittadino Oscar Farinetti che racconta come ha portato il marchio Italy nel mondo però Farinetti diciamoci la verità è stato massacrato in Italia in questi anni è stato additato ha avuto l'appalto dell'Expo senza gara e chi dovevano darla la gara per una ristorazione di massa all'Expo a Vapiano ai tedeschi è andata lui ma chi dovevano darla tra l'altro nel libro Farinetti racconta che suggerisce a Renzi di prendersi cinque anni sabbatici di andare in America di farsi rimpiangere di sparire forse non è pensato la che ti vedeva forse non è tutti i torti Farinetti però voglio raccontarvi questa cosa di Bottura e di Camilleri allora vado a intervistare Bottura di solito Bottura era sempre di buon umore invece quello giornaliero era di malumore e dice vada io sono proprio di cattivo umore mi viene voglia se vince il no mi viene voglia di andarmi dall'Italia chiudo tutto vado a New York ringrazio tutti me ne vado naturalmente non stava esprimendo un'intenzione stava esprimendo un sentimento e lì mi sono detto questo è il titolo dell'intervista poi naturalmente abbiamo parlato anche dei suoi piatti le cinque variezioni di parmigiano però l'intervista è quella poi mi sono anche detto però prende posizione in un modo così deciso per il sì qui rischiamo siccome ero convinto che avrebbe vinto il no rischiamo di inimicarci i lettori troviamo un altro personaggio importante che invece sia per il no allora ho pensato ad Andrea Camilleri tra l'altro credo che ci sia in sala una collaboratrice di Andrea dopo ne parleremo Camilleri grandissimo personaggio mi ha fatto un'intervista bellissima raccontava di quando sono sbarcati di americani in Sicilia di quando e che poi gli americani in Sicilia erano quasi tutti siciliani lui parlava in dialetto siciliano con questi dati americani e vedeva questo generale cattivissimo che arrivava su un carro armato vide una croce e del terreno fresco chiese cos'è quello dice è un tedesco morto e lo abbiamo sepolto qua allora lui prende la croce la spezza la brutta via cioè fa la guerra con i pigli di un John Wayne ed era Patton il generale Patton e comunque allora Camilleri racconta la sua storia portella della ginestra il bandito Giuliano la mafia l'invenzione di Montalbano lui comunista dice Montalbano è ispirato al mio padre fascista padre di Camilleri aveva fatto la marcia su Roma la storia straordinaria e poi gli chiedo ma Andrea tu cosa voterai al referendum lui mi dice io io sono cieco lui è cieco è diventato cieco e Valentino Alferi i suoi occhi gli aiuta l'assiste e gli dice io sono cieco ma mi farò portare a braccia al seggio a votare no e gli sono detto ecco il titolo allora facemmo un giorno Camilleri sono cieco mi farò portare a braccia a votare no e il giorno dopo Bottura che diceva se vince no me ne vado dall'Italia e 40.000 condivisioni milioni di click ma la reazione della rete è stata esattamente opposta mentre Camilleri è stato ovazionato maestro lei non è cieco lei ci vede meglio di noi lei ci indica il cammino il povero Bottura è stato linciato e non solo mediacamente gli hanno scritto con lo sprasso del ristorante quando è che te ne vai maledetto tra l'altro questa è una cosa molto brutta lui raccontava nell'intervista che lui ha un figlio con una disabilità che poco a poco è riuscito a recuperare eccetera però in rete hanno associato le due cose la sua posizione politica e il figlio quindi ha insultato il figlio lui è uscito a pezzi da questa cosa questo per dire intanto vabbè lì si sarebbe capito come sarebbe andato a finire il referendum anche senza bisogno dei sondaggi ma nello stesso tempo si è capito anche di quanto possa essere feroce la rete in cui tutto quanto viene fatto a Coriandoli la rete finisce l'opera la musica il teatro i giornali i libri la rete tritura tutto e lo manda all'aria come Coriandoli e qualcosa arriva però in realtà l'essenza delle cose volte la perdiamo certo infatti bene allora visto che si può sperare si può sperare soprattutto se si è italiani quindi non ti facevo una promessa in vano da questa serata usciremo tutti un pochettino più non dico ottimisti ma insomma più fiduciosi come dice Aldo Aldo ti volevo dire un'altra cosa come vedrete in questo libro c'è una veramente una carrellata degli ultimi 30 anni d'Italia la cosa che mi ha colpito non è certamente le interviste ad Andreotti ai politici a Tremonti eccetera eccetera ma che c'è ci sono interviste praticamente a tutti i cantanti italiani da Giovanotti a Vasco Rossi come diceva lui a Dalla a De Gregori insomma praticamente ci sono tutti allora se tu metti insieme appunto grandi imprenditori politici scienziati eccetera eccetera riconosci che in fondo perché le hai messi così tanti perché ti piace la musica perché l'Italia è ancora l'Italia del mandolino delle canzonette però se tu le metti in fila fanno impressione perché c'è musica leggera ma c'è anche musica classica c'è anche Muti Riccardo Muti Ennio Morricone Paolo Conte un altro grande piemontese Dalla De Gregori Renato Zero Jax Andrea Bocelli Laura Pausini Vasco Rossi Giovanotti Celentano insomma è un pezzo della nostra storia in fondo tra l'altro anche Jax racconta la sua lotta contro la droga contro la cocaina lui dice drogarsi è come chiedere un po' di pace alla morte Giovanotti racconta che da ragazzino lui è figlio di un impiegato del Vaticano ed era vicino di casa di Emanuele d'Orlandi diceva Piazza San Pietro per noi era un po' il cortile di giochi poi quando rapirono Emanuele poi spararono al Papa abbiamo capito che non sarebbe mai più stato così tra l'altro io da ragazzino non amavo molto Giovanotti che era la mia età del 66 e faceva della musichetta veramente banale poi invece si è capito che in realtà Giovanotti aveva del talento e poi in fondo Luigi diventare amico dei cantautori che ascoltavo da ragazzo è stata la cosa forse più bella che questo mestiere mi ha dato per cui diventare amico di Lucio Dalla di Francesco De Gregori che fece un'intervista in cui massacrò Veltroni De Gregori era considerato un po' una sorta di veltroniano antelittera la sinistra con i buoni sentimenti e senza l'ideologia era 2007 e Veltroni era sindaco di Roma avrebbe vinto tutti lo sapevano le primarie per diventare segretario del PD sembrava fosse l'astronoscente e De Gregori lo demolì dicendo Veltroni è convinto che Roma sia il fantabosco ma in realtà Roma è un disastro presto verrà fuori questa cosa certo Roma è bellissima dal cupolone al Quirinale ma al Colosseo ma non è certo merito di Veltroni Veltroni l'ha presa malissimo però poi in realtà venne fuori che le cose stavano abbastanza così mentre Ennio Morricone racconta quando da ragazzo lui sentì il botto di Verasella lui era lì quando esplose la bomba di Verasella lui suonava il trombone il jazz per gli americani prima per gli ufficiali tedeschi e poi per gli americani sono storie che riguardano tutti quanti noi Paolo Conte mi ha raccontato che lui da ragazzo nella sua cascina vicino a Dasti vide passare prima i tedeschi poi i partigiani poi gli inglesi e la sua domestica era di Boves un paese che era stato bruciato dai nazisti aveva cinque figli tutti e cinque partigiani tutti e cinque fucilati e dice la ricordo col telefono quello incassato nel muro chiedere se avevano sofferto c'è una cosa tremenda e capite che poi perché poi quella gente aveva poi dopo lui scrive la Topolino Maranto si sta che è un incanto nel 46 bionda non guardare il finestrino che c'è un panorama che non va sei case su dieci sono andate giù era un paese distrutto l'Italia del 46 Paolo Conte c'era era un bambino ma c'era quindi se lo ricordo per quella generazione probabilmente la vita aveva un altro sapore avevano molto ma molto meno di quello che abbiamo noi ma se lo godevano molto di più Gianni Rivera altro piemontese di Alessandria racconta di essere nato sotto un bombardamento stavano bombardando Alessandria il papà è andato a prendere la mamma incinta di nove mesi la portava sulla canna della bicicletta perché non aveva una macchina e lei concepì Gianni Rivera sotto le bombe tedesche e comprarono lui comprava il primo letto quando mi comprò il Milan e con i soldi del Milan mi comprava il primo letto perché non in una casa non avevamo i soldi per un letto il letto era solo per i miei genitori abitavamo tutti nella stessa stanza ma noi dormivamo su un divano anche Tiziano Terzani ad esempio mi ha raccontato che lui non aveva mai dormito in un letto è una cosa che racconta Giuliano Amato di un'intervista Giuliano Amato che non è molto popolare mio papà poi lo detesta perché il famoso Giuliano Amato del prelievo notturno però Giuliano Amato racconta che quando lui venne trombato per l'ennesima volta per il Quirinale fa un'intervista in cui ha uno sfogo e dice basta con questa storia che uno vale uno che lo zainetto i tweet dice io non sono uno di un nomenclato non sono figlio di potenti io ho fatto la normale di Pisa con una borsa di studio vengo da una famiglia semplice fra l'altro Giuliano Amato nato a Torino da una famiglia di origine regionale e dice il mio compagno di corso era Tiziano Terzani il quale non aveva mai dormito in vita sua in un letto perché era una famiglia fiorentina molto povera e l'unico letto di casa ce l'avevano i genitori e lui dormiva in un divano ci sono anche storie come queste che fanno bene Dino Zoff figlio di contadini cresciuto in campagna e Zoff racconta il suo amore infinito per la Juventus però dice anche che la Juventus non dovrebbe rivendicare gli scudetti di Moggi mentre Rivera dice che da ragazzo ero juventino guarda Aldo noi siamo amici però una cosa che mi ha fatto male devo dirti la verità io sono milanese di origini e io sono leggermente più vecchio di lui ci passiamo quasi 20 anni e quando io negli anni 60 ero tifoso dell'Inter perché l'Inter di Herrera vinceva e quindi per un ragazzino come bambino è chiaro che uno tifa per la propria città e tifa per la e quindi vagamente interista sono rimasto lui è uno juventino quindi insomma da questo punto di vista ci divide però quando tu hai fatto l'intervista a Mazzola uno dei miei idoli e gli hai fatto dire che Herrera gli dava la pastiglia di droga guarda quello non dovevi farlo però purtroppo è vero guarda l'intervista a Mazzola adesso non per merito suo non per merito mio è un'intervista strepitosa perché lui racconta la storia della sua vita allora Valentino Mazzola mitico capitano del grande Torino era di Cassano d'Adda non lo sapete ma questo non lo sapevo la famiglia di Mazzola era una famiglia di ladri ma ladri proprio professionisti dice mio papà è scappato di casa per non andare a rubare e andò a Venezia dove si arruolò come marinaio e poi cominciò a giocare a pallone dice aveva fatto un provino dal Venezia l'avevano scartato ma c'era uno zoppetto faceva il talent scout e disse no questo ragazzo è bravo e alla fine convince i dirigenti del Venezia a prenderlo e poi venne a fare il capitano del grande Torino però poi scoppiò la guerra e allora l'alternativa era o andare a combattere in Africa o in Russia o andare a lavorare alla Fiat a fare gli operai non che si poteva fare i calciatori allora lui va alla Fiat cioè Valentino Mazzola che vedeva il grande Torino era un operai della Fiat e per arrotondare aveva un negozio dove vendeva palloni da calcio e vinsero 5 scudetti e si schiantano purtroppo a Superga il papà Valentino mi riconta sempre quando lui sempre che il Torino era morto aveva pianto anche Paolo Conte era del Torino quindi anche lui pianse questa notizia è terribile e allora allora dunque Sandro Mazzola stava con la compagna del padre padre aveva avuto Sandro e Ferruccio dalla moglie poi si era separato dalla moglie Ferruccio era rimasto con la mamma Cassano D'Adda Sandro Mazzola era venuto a stare a Torino con Valentino e con la sua compagna quando Valentino morì a Superga e la compagna di Valentino rapì Sandro Mazzola Sandro mi ha detto non l'ho mai capito bene se era per questione di eredità o se era per cercare di tenersi un pezzo del suo uomo e lo nascose in un mulino e allora la mamma di Sandro la moglie di Valentino Mazzola chiamò il carabiniero e gli disse cercatelo trovatelo e non lo trovarono allora andò dai tifosi del Toro e disse dovete trovare mio figlio i tifosi del Toro lo trovarono in questo mulino lo presero lo rirapirano lo portarono alla mamma e lì Sandro scoprì che aveva un fratello che aveva Ferruccio allora questi due ragazzi promettevano bene al calcio giocavano a pallone lì alle colonne di San Lorenzo Milano ogni tanto il pallone cadeva nelle catacombe erano paura di andarlo a prendere ma non erano nessuno due ragazzini giocavano a pallone allora vennero presi sotto la protezione da un naso dell'Inter Benito Lorenzi detto veleno e Mazzola mi ha raccontato che Lorenzi era una persona dolcissima cattolicissimo così però sul calcio diventava un uomo terribile intanto insultava ferocemente gli avversari Boniperti cominciava a chiamarlo Marisa al primo minuto e finiva non atteso ma Boniperti usciva pazza poi vabbè le classici strizzava i testicoli dell'avversario in area oppure insultava ad esempio con Charles continuava a mettere in dubbio la moralità della regina fino a quando Charles gli disse se io sono gallese ma della regina di Ghetera non me ne frega niente e quindi la cosa finì lì era andato a Salò Lorenzi era pure fascista cattolico e fascista e era talmente dolce che aveva preso sotto la sua protezione questi due ragazzi e l'aveva fatto per due motivi uno perché secondo lui sosteneva Lorenzi che l'aereo al Subberga si era schiantato per colpa sua perché il Torre aveva già vinto lo Scudetto e anzi doveva andare a giocare a San Siro con l'Inter se vinceva aveva vinto matematicamente lo Scudetto e Ferruccio Novo aveva detto Ferruccio Mazzoli si chiama così come il presidente Ferruccio Novo si era rimasto d'accordo con Valentino era capitano potete andare a Lisbona se vincete matematicamente lo Scudetto se no a Lisbona non andate loro dovevano andare a Lisbona a fare la partita d'addio al calcio di Ferraere che si chiamasse Ferraere che era un portoghese amico di Valentino allora il Torre sta vincendo a San Siro all'ultimo minuto rigore per l'Inter se l'Inter pareggia il Torre non ha vinto lo Scudetto quindi non si va a Lisbona però Lorenzi sbaglia il rigore e quindi lui dice Valentino è morto per colpa mia non solo però lui era convinto che se avesse fatto del bene ai suoi figli Valentino della Su lo avrebbe aiutato a vincere gli Scudetti però lui vinse due Scudetti e portava i figli a giocare nell'Inter e li portava tutti gli anni a Superga a pregare sulla tomba del papà sono le lapide che ricorda il papà però mandando Superga malediceva litigava con tutti gli automobilisti di passaggio perché erano tale carattere e poi nella grande Inter raccontava Mazzola e ci davano questa pastiglietta e i vecchi mi dicevano buttala via però Herrera non era stupido vide che lo buttavano via e cominciò a scioglierla nel caffè fatto sta che insomma e poi lui racconta un'altra cosa molto bella ricordate il mondiale del 70 quello in cui finalmente andammo in semifinale il gol di Rivera racconta il suo gol 4-3 la Germania Mazzola racconta una storia più prosaica racconta che l'Italia aveva battuto la Svefia la prima partita l'Uruguay aveva battuto Israele se l'Italia e l'Uruguay si pareggiavano tutte e due erano matematicamente qualificati allora il riscaldamento momento di entrare in campo il capitano dell'Uruguay si avvicina a Mazzola e gli dice ombre oggi noi si pareggia e Mazzola dice va bene e allora Mazzola dice agli altri facciamo storie si pareggia tutti sono tutti d'accordo tranne Bertini dell'Inter dice no no io voglio vincere voglio vincere quindi tutti cominciano a passarsi la palla lateralmente 2000 metri faceva caldo l'altura partita palesemente combinata l'unico che corre come un matto è Bertini che tira tutte le posizioni e il capitano dell'Uruguay va da Mazzola dice oh ma che cosa sta facendo mentre quattro anni dopo ricordate il mondiale in Germania e la Polonia era già qualificata bastava un pareggio con l'Italia solo che la Polonia stava vincendo 2-0 alla fine del primo tempo allora racconta Mazzola non l'aveva mai detto fu mandato nello spogliatoio Mazzola aveva studiato sapeva le lingue era addetto a fare queste cose allora andò nello spogliatoio dei polacchi andò a parlare con Deina il capitano e gli propose di fare una partita amichevole in Italia ma l'incasso sarebbe andato alla Polonia insomma gli promessi dei soldi e lui disse sì sì va bene va bene però poi aggiunge Mazzola dalla furia con cui si buttarono in campo nel secondo tempo i polacchi capimo che la combina non funzionava e poi disse infine che Moggi aveva subornato Moratti che gli faceva comprare il giocatore che voleva lui che gli dava le dritte che gli prometteva che sarebbe venuto l'Inter e Mazzola era direttore sportivo dell'Inter quindi quando ho capito che la campagna acquista non la faceva lui ma la faceva Moratti se n'è andata e lui dice Moggi era un genio un genio del male certo e senti Aldo tu mi hai detto adesso come si fa l'intervista e e adesso finora abbiamo scherzato adesso ti faccio una domanda cattiva va bene cattiva cioè tanto qui siamo tra intimi si può dire bevi un po' d'acqua cattiva allora tu mi devi dire il personaggio più odioso più insopportabile più fastidioso che è intervistato eh bevi bevi prima prima bevi poi ci pensi poi me lo guarda allora di solito tra intervistatore e intervistato si crea una sorta di empatia perché è una specie di duello no in realtà è un combattimento tu devi cercare di fargli tirare fuori più cose possibile e lui deve cercare di fare bella figura insomma di dire di concedere qualcosa ma non l'essenziale quindi è un duello di cui però è una schermaglia in cui si crea una qualche forma di complicità qua non ci sono tutte le persone che ho intervistato ad esempio Fernanda Pivano è stata un'intervista interessantissima tra l'altro lei è nata a Genova ma di formazione torinese mi ha raccontato ad esempio il suo padre che un giorno entrò in stanza trovò il suo padre che si era appena sparato aveva appena cercato di suicidarsi ma non aveva avuto il coraggio di spararsi aveva sparato al soffitto Gino Paoli lui non c'è nel libro c'è nel libro e mi ha detto che mi ha raccontato quando lui si è sparato il cuore e non è morto incredibilmente insomma vai proprio a scavare nel profondo e quindi si crea una qualche forma di intimità di complicità con la persona che hai davanti e quindi è difficile dire che una persona alla fine ti è risultato odiosa ecco Jay Axel non è la persona simpatica ecco avete presente il rapper così non è la mia tazza di te uno che non mi è piaciuto è stato Bill Gates io non ho messo gli stranieri quindi non ho messo le persone che ho intervistato non ho messo Erdogan ecco Erdogan è uno che mi ha fatto un'enorme impressione cioè Erdogan non è che mi piaccia però Erdogan ti fa una certa impressione alto grande solenne una stretta di mano calda da prano terapeuta cioè Erdogan non è uno che passa ma è molto carisma ecco Spielberg Steven Spielberg è una persona simpaticissima gentile intellettuale ebreo molto simpatica mentre Bill Gates mi ha deluso ecco io pensavo che Bill Gates fosse una specie di Leonardo del nostro tempo no un genio cioè è un uomo d'affare business oriented come dicono gli americani uno che parla sempre di soldi poi li spende bene li spende anche per eradicare la malaria dall'Africa però insomma fondamentalmente è un uomo d'affare e in questa entrevista lui mi annuncia la nascita del tablet mi spiega che esisterà una cosa una lavagnetta elettronica a cui si potrà parlare che scriverà quello che tu gli dirai insomma annuncia una rivoluzione però non prevede che in realtà il miglior tablet l'avrebbe fatto Steve Jobs il suo rivale l'iPad e quindi quel binario lì sarebbe stato per lui un binario morto nella storia ma io in realtà ti volevo dire anche non solo diciamo il più antipatico quello poi è opinabile e come dici tu è difficile che poi un'intervista finisca male però qualche volta capita ma l'intervista è difficile e con quello per esempio ci sono due persone che io stimo moltissimo che uno era Bobbio che ovviamente io sono lavorato in storia delle letture politiche per me è stato un mito eccetera e quando fare interviste con lui era una cosa terribile terribile perché era tu mi ricordo un incubo che ancora ho di notte quando mi sveglio mi ricordo una notte posso interrompere scusami un'intervista a Bobbio io ero appena arrivato alla stampa proprio per queste mie frequentazioni Fattori che era allora il direttore della stampa mi mandò a fare un'intervista a Bobbio e e io promisi erano le 4 del pomeriggio di farla c'era tutto il giornale fermo la prima pagina ferma in attesa di queste interviste allora io naturalmente con tutta la riverenza che potete immaginare vado a intervistare Bobbio via Sacchi eccetera con il registratore eccetera mi metto a scrivere alle 8 di sera c'è un fattorino allora c'erano adesso non ci sono più nei giornali gliela mando perché lui lo voleva rivedere alle 9 e mezzo si chiudeva alle 11 9 e mezzo ricevo la telefonata di Bobbio che dice ovviamente io professore sei un cretino non hai capito nulla l'intervista non si fa io mi sento raggelato e dico no professore guardi qui tutti aspettiamo questa sua intervista eccetera insomma dopo un'urlata che durata 10 minuti dice vabbè adesso allora fai così prendi intervista riga per riga e mi corregge l'intervista l'intervista corretta era o al posto di oppure oppure era leggerezza superficialità ora voi ridete giustamente invece aveva ragione lui cioè lui mi insegnò che le parole i sinonimi non sono tutti uguali che l'importanza dell'aggettivo giusto del sinonimo giusto eccetera però fu un tormento terribile alla fine le interviste eravamo arrivato alle 11 meno un quarto a un certo punto un urlo tremendo e scomparsa la luce è scomparsa la luce è andata via la luce da casa sua e quindi sento più niente chiude senza il testo davanti con la luce io stavo morendo i rivoli di sudore che mi cadevano eccetera dopo un po' richiama e dice è tornata la luce potete pubblicare questo piccolo episodio per dirvi che molte volte anche le persone un altro napolitano un altro terribile intervistare un napolitano perché poi ti rivede anche le virgole ma dicendo no quella era sbagliata ma guardi ci ho messo punte virgola era meglio la virgola ecco allora questi intervistatori alla fine subisci naturalmente degli stress micidiali però poi ti rendi conto che avevano ragione loro è così? ma sì a volte sì a volte l'intervistato appesantisce l'intervista quando la vuole rileggere magari vuole aggiungere delle cose che secondo me sarebbe stato meglio togliere a volte hanno ragione a volte hanno torto le interviste politiche sono quelle più difficili da fare ma anche più difficili da far restare perché poi a volte sono datate io ho cercato in questo libro di scegliere alcune che secondo me sono rimaste cioè c'è Bettino Craxi che da mamette dice tutti scrivevano che stava tramando per tornare in Italia lui dice no voglio essere operato qua voglio morire qua e voglio essere sepolto qua ed è quello che poi accade e c'è Edgardo Sogno altro torinese che dice che in punto di morte dice che voleva veramente fare un colpo di stato Berlusconi l'ho intervistato il giorno in cui è uscito dal palazzo Chigi sapendo di non tornare più mentre Bossi l'ho intervistato il giorno del suo ritorno perché lui aveva avuto l'ictus era stato per un anno in clinica o chiuso in casa e fece questa intervista in cui disse tutta una serie di cose giuste e disse mi piacerebbe che Van de Sproos andasse a Sanremo mi piacerebbe che Martinelli facesse un film sulla battaglia di Legnano e Martinelli fa un film sulla battaglia di Legnano anche se non è indimenticabile mi piacerebbe dice poi dice una cosa importante dice bisognerebbe fare dei dazi per proteggere le nostre merci da quelle cinesi dobbiamo diventare protezionisti io non so se sia la via giusta ma il mondo dopo dieci anni sta andando lì l'unica previsione che decisamente sbaglia quando dice che dopo di me verrà mio figlio Renzo e lui il mio delfino gli saltarono alla giugolare tutti i capi della lega e lui disse ma no ma che delfino semmai una trota è lì mentre l'intervista Renfi la fece il giorno del suo 39esimo compleanno era l'11 gennaio 2014 e lui disse non capisco perché Letta non si fidi di me io sono da lì a qualche giorno si capì come mai Letta non si fidava di lui ma una delle interviste più divertenti è stata quella con Dolce e Gabbana i due stilisti e anche lì parliamo il Milano e a un certo punto poi gli chiesi ma voi siete omosessuali dichiarati raccontatemi come avete detto alla mamma chi eravate davvero e allora Domenico Dolce che è siciliano neanche di Palermo ma di Polizzi generosa che è un paesino delle madonie che è esattamente teoria all'avanguardia e lui mi disse no io non ho avuto problemi io ho detto la mamma mamma sono gay e la mamma cosa ha risposto mi ha risposto cosa vuol dire vuol dire mamma che mi piacciono gli uomini però lei l'ha presa bene mi ha detto vabbè dai prova vedrai che poi ti passa passerà passerà mentre Stefano Gabbana milanese Milano vicino all'Europa così non ha mai avuto il coraggio di dirlo alla mamma e quando ormai in età adulta fece un'intervista in cui non con me in cui rivelò la sua omosessualità e tutti i telegiornali la ripresero e quindi la mamma apprese che il figlio era gay da mentana e il fratello di Gabbana lo chiamò e diceva ma tu sei matto la mamma è svenuta davanti alla televisione ma cosa hai fatto e lui disse mia mamma in realtà sapeva benissimo che io sono omosessuale ma non avevamo mai avuto il coraggio di parlare queste sono le differenze tra le mamme siciliane e le mamme milanesi le mamme siciliane a volte sono più avanti le mamme siciliane certo certo io volevo ritornare un po' alla nostra professione perché credo che interessi in fondo il nostro mestiere dovete sapere che io sono stato vice direttore di Aldo ma una volta io sono stato vice suo nel senso che Aldo era un quirinalista c'è stato un periodo della vita che Aldo era un quirinalista i quirinalisti sono quelli che seguono sento il presidente della repubblica ovunque vada ed è questi viaggi poi viaggi lontani eccetera si crea una certa come si amicizia colleganza eccetera e c'è il club addirittura hanno un sindacato i quirinalisti sono un po' pazzi ma comunque e sono uscito è stata una parentesi della mia vita è stata una parentesi della sua vita a un certo punto mi chiamarono mi disse guarda che Aldo non può andare con Ciampi in Brasile perché gli sta nascendo una figlia una figlia dovresti andare tu va bene faccio il vice di Aldo e vado arrivo un entusiasmo nei miei confronti ah un'accoglienza meravigliosa dico però si vede che ho una buona fama insomma devo dire una cosa meravigliosa chi mi voleva offrire questo chi mi voleva offrire quella dopo un po' della mia ingenuità dissi ma com'è tutto questo entusiasmo ma perché forse perché non c'è Aldo in questo senso che è Aldo tutte le volte perché con questi viaggi poi alla fine cosa si fa? si guarda l'altro per vedere che non faccia qualcosa di diverso cioè in realtà per stare tranquilli tutti dovrebbero avere le stesse cose eccetera eccetera e Aldo queste cose non le fa cioè Aldo andava sempre a cercare magari una frase diversa una cosa diversa e il giorno dopo dava i cosiddetti buchi buchi un giornalistico vuol dire una notizia che gli altri non hanno e questo gli faceva terribilmente arrabbiare per cui quando arrivai io diceva meno male non c'è Aldo ecco c'è questa abitudine diciamo del gregge ecco secondo me questo è uno dei diciamo dei peccati più grossi di un giornalista quello di cercare di fare gregge io poi lì in quell'occasione qualche colpetto sempre con l'esempio di Aldo glielo ho dato anche lui quindi l'entusiasmo iniziale poi alla fine non era lo stesso però obiettivamente qualche volta c'è questa tentazione giorno dopo lo devi vedere il collega e quindi quando sai che non dico gli hai fatto male ma comunque sei andato da solo fuori del gregge beh insomma ti dispiace e invece questo fa parte del nostro mestiere è così? è così fra l'altro qualche giorno prima avevo fatto un'intervista a Franca Ciampi e quindi gli altri l'avevano vissuta come un affronto personale però la Franca Ciampi ricordate era una donna c'è ancora una donna molto in gamba molto vivace non c'è nel libro l'intervista a Franca Ciampi ma forse avrei dovuto metterla ho un po' rimpianto di aver messo poche donne però Fernanda Pivano e Elvira Sellerio l'avevo già messo in un libro precedente c'è qualche donna si comincia da Bebe Vio che ha fatto vent'anni qualche giorno fa e si finisce con Rita Levi Montalcini un'altra grande torinese c'è molto a Torino nel libro e scusa sapevo una parentesi Rita Levi Montalcini mi disse io non avrei mai vinto il Nobel se il Duce non avesse fatto le leggi razziali costringendomi a chiudermi sotto falso nome in uno stanzino a Torino a studiare e poi Rita Levi Montalcini andò in America e le chiedevano dove fosse il suo marito e lei rispondeva I am my own husband io sono il marito di me stessa e loro non capivano pensavano che non sapesse l'inglese ma lei aveva giurato mi disse di non sposare mai nessuno perché non voleva che obbedire a un uomo come sua madre obbediva a suo padre e in America Rita Levi Montalcini vide le donne nere alzarsi in piedi sugli autobus per cedere il posto agli uomini bianchi fino a quando una di loro Rosa Parks una donna delle polizie dell'Alabama rifiutò di alzarsi in piedi avviando la rivolta dei diritti civili vedete che sono sempre le donne che fanno la storia e sono convinto che se tra vent'anni avranno ancora la fortuna di avere dei lettori di poter pubblicare un'altra raccolta di interviste sono convinto che le donne saranno appena fatto un libro che è un inno alle donne come è noto le donne riterranno la terra però ecco un'altra intervista un po' rubata fu quella a Ciampi che invece nel libro c'è che fu fatta qui a Torino lui era venuto in visita a Torino era andato a Palazzo Carignano a vedere il Parlamento dove si è riunito per la prima volta il Parlamento italiano nel 1861 ed era talmente acceso dal fatto ho fatto via Mazzini ho fatto via Cavuro ho fatto via Garibaldi l'idea che stesse nella capitale del risorgimento che cominciò a parlare dell'Italia e questa cosa mi fece molto piacere perché noi torinesi io sono di Alba però poi ho studiato qua ho lavorato 11 anni alla stampa mi considero un po' albese un po' torinesi comunque piemontese a volte noi non siamo consapevoli di noi stessi e a volte non difendiamo quello che i nostri padri hanno fatto cioè Ciampi lui diceva io mi sento profondamente Livornese Toscano Italiano e lui giungeva Europeo e in quanto Toscano lui era fierissimo del fatto che i volontari dell'Università di Pisa avevano combattuto a Guattatone e Montanara accanto ai piemontesi noi i piemontesi a volte non sappiamo neanche chi siamo i nostri nonni i nostri bisnonni i nostri avi hanno dato il sangue per fare l'Italia cioè Cavour mandò in Cremea 18.000 uomini di cui migliaia morirono di colera ma è come se adesso Piemonte aveva 2 milioni di abitanti e come se adesso Gentiloni mandasse 600.000 soldati non so in Tasmania dall'altra parte del mondo a San Martino 24 giugno del 59 i piemontesi persero 1.500 uomini in un giorno sarebbe come se oggi l'Italia pervesse 50.000 soldati in un giorno e nessuno battè ciglio anzi quando Napolone III passò da Torino dopo l'armistizio di Villafranca i turinesi lo fischiavano perché volevano continuare a combattere per fare l'Italia e queste cose Ciampi le sa feva a volte forse perché non hai detto una cosa nel rapporto tra Franca e Ciampi perché lui non scende io invece sono ormai abituato di un cinismo devo dire che Franca Ciampi e il marito avevano un rapporto ovviamente di grande amore di grande intimità però tu questo non l'hai detto Ciampi quando parlava alla moglie era terrorizzato io mi ricordo una volta lui era così seduto lei parlava e non dico straparlasse ma insomma parlava in maniera molto vivace lui era terrorizzato perché la guardava così dice oddio cosa dice questo è vero è vero è vero allora lei parlava in modo molto franco Franca Ciampi e l'unico gioco di parole che farò sui nomi sui cognomi che non me lo posso permettere però lei era veramente franca di nome di fatto e Ciampi da una parte era terrorizzato ma dall'altra non osava dire sta in vita perché dei due comandava lei Ciampi è uno che avrebbe fatto il professore di latino greco al liceo di Livorno tutta la vita quale era è stata lei a spingerlo a fare concorso per entrare alla banca d'Italia perché il padre di Franca lavorava già in banca d'Italia e quindi è stata lei a fare il marito perché era un tempo in cui le donne si realizzavano attraverso gli uomini io invece sono convinto che il futuro appartenga alle donne e le donne potranno realizzarsi restando se stesse valorizzando la loro femminilità ecco vorrei ancora dire se posso Luigi uno dei personaggi che più mi ha divertito Luigi è stato ovviamente Grillo e Grillo io lo ho trovato tre volte in vita mia nel libro c'è un'intervista che feci per telefono quando nei giorni dello tsunami e nei giorni anche della fecondazione assistita l'intervista era sul fatto che lui aveva spreso posizione contro la fecondazione assistita quindi di fatto la pensava come cardinale Ruini che c'è anche Ruini e Grillo mi spiegò perché lui disse che era un'intervista proprio contro la modernità lui non era ancora in politica però gli disse noi della vita abbiamo fatto mercato e tutto quello che è mercato finisce per avere un codice a barre e un conto alle Caiman in fondo io sono favorevole invece alla fecondazione assistita però in fondo c'era una punta di verità in quello che lui diceva era proprio un'intervista contro il tempo moderno tant'è che diceva sono contro la dittatura del PIL se io vado a sbattere con la macchina contro un muro dovrò comprare un'altra macchina e il PIL salirà nelle isole dove c'è stato lo tsunami il PIL salirà perché sono da ricostruire ma se la rete avesse dato in tempo la notizia 200.000 persone sarebbero ancora viste quindi era come fa Grillo cioè dice anche delle cose vere io penso che Grillo possa anche essere un pericolo per il paese non penso che sia la soluzione però non puoi dire che è uno irrilevante è uno che ti mette di fronte è sfidante tant'è che poi lo intervistai un'altra volta dopo quando era già in politica e quando aveva attraversato lo stretto a nuoto e era più bellissimo perché lui esitava era pericoloso e allora i suoi fani dicevano ma beh per non farlo ci sono i barracuda nello stretto c'è la corrente contraria contraria hai 65 anni e lui guardò casaleggio fece il segno di singola testa e si buttò e nuotò in un'oretta fece tutto lo stretto poi fece a delfino le ultime bracciate e uscì dall'acqua gocciolante e cominciò a parlare con i giornalisti e disse tu sei della stampa il tuo giornale chiuderà tu sei il Corriere della Sera ma non torni al giornale non c'è più la scrivania ma ormai non servite più niente ormai c'è la rete però Grillo appunto questo è come bossi sono quei fondatori che sono come dei falchi da preda dei cavalli di razza brutti antipatici in fondo non sono mai e mi sono ricordato che in realtà io avevo già conosciuto Grillo una prima volta quando ero ragazzo non facevo ancora giornalista Luigi non ci conoscevamo ancora avevo 19 anni e ad Alba organizzavamo lo sa organizzavamo tutti gli studenti dei licei o dell'enologica o dell'estudio tecnico organizzano delle veglie degli spettacoli e fanno venire un cantante un cabarettista e di solito l'artista arrivava beveva una bottiglia di Barolo faceva il suo spettacolo prendeva i soldi anche a volte è nero e se ne andava invece Grillo arrivò al mattino passò tutto il giorno con noi e si informò su come vivevamo come parlavamo come pensavamo e la prima cosa che chiese fu siamo tra amici sono un po' volgari ma è quello che lui disse come si dice ad Alba vaffanculo ad Alba vaffanculo si dice non chiedetemi perché si dice va a cagè a Rod cioè vai a fare la cacca a Rod questo paesino a meno col castello vicino ad Alba si dice così perché papà si dice così e tu non hai idea non si sa fatto sta che allora a Grillo questa cosa piace moltissimo e allora stai lì sul palco davanti a duemila persone e come prima cosa disse andè a cagè a Rod in dialetto venne giù la sala delle risate e tutti lo amavano perché perché il divo televisivo qual'era Grillo in quell'epoca era venuto nel paesino e aveva parlato si era piegato sul solco e aveva parlato come parlavamo noi e la cosa piacque moltissimo e lì si capiva che Grillo avrebbe avuto forse e lì si capì che lui voleva diventare giornalista che voleva diventare giornalista a